Lo scorso 8 febbraio 2022 la BCC di Aquara ha festeggiato il primo anno di attività della filiale di Agropoli in via salvo d'acquisto 18. Sono stati 12 mesi di obiettivi mirati, di impegno costante e di risultati raggiunti, fanno sapere. Vogliamo considerare questo anniversario un'ulteriore tappa di un percorso che abbiamo intrapreso, convinti che ve ne siano molti altri da raggiungere, con lo stesso entusiasmo, professionalità e con la stessa tenacia che hanno motivato la BCC di Aquara fin dagli inizi e che ci hanno permesso di arrivare ad avere 16 sportelli bancari, tutti nella provincia di Salerno. Un ringraziamento particolare va ai nostri soci, amici e clienti che in questo anno hanno creduto in noi e che ci hanno reso partecipi con il nostro lavoro del loro successo, sottolineano. Se oggi siamo qui a festeggiare, soprattutto grazie alla fiducia che i clienti hanno riposto in noi, la nostra banca si impegna quotidianamente per fornire il miglior servizio possibile e siamo orgogliosi di avere conquistato giorno dopo giorno tanta fiducia, grazie anche al nostro comportamento sempre umile e disponibile, afferma il direttore generale Antonio Marino. Ma vogliamo altresì ringraziare i dipendenti della filiale, in foto e insieme al direttore generale e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il raggiungimento di questo nuovo traguardo. Guardiamo con entusiasmo al futuro, certi che questa ultima ricorrenza possa diventare un nuovo punto di partenza. Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra che si vincono i campionati.